Come ogni anno a settembre in varie comunità parrocchiali giunge un nuovo pastore. Tra queste, la parrocchia di San Giuseppe Lavoratore in via Bottiglieri a Salerno in questi giorni saluta Don Gerardo Bacco, che ha chiesto all'Arcivescovo Bellandi di svolgere nel 2025, anno giubilare, il Ministero di Confessore all'Ord e accoglie Donnello Senatore che fino ad agosto ha guidato la comunità della parrocchia di Sant'Eustacchio, sempre a Salerno. Le due comunità si sono ritrovate domenica 1 settembre presso la chiesa di San Giuseppe per partecipare alla celebrazione eucaristica d'ingresso di Donnello nella sua nuova parrocchia, celebrazione preseduta da Don Marco Russo, vicario foranio per la zona di Salerno Ovest. Una parrocchia, quella di San Giuseppe, che si estende tra via Vinci Prova, via Mobilio, via Luigi Guercio e via Bottiglieri e, con i suoi 13.000 abitanti, è seconda solo alla parrocchia del Cuore Immacolato di Maria Passena, più nota come Madonna di Fatima, che ne conta circa 16.000. Donnello non sarà solo a guidarla, avrà al suo fianco altri sacerdoti e un diacolo, una fraternità sacerdotale che vede presente da vari anni, da quando lasciò per motivi di salute la guida della chiesa salernitana, l'Arcivesco e merito Monsignor Moretti è ormai punto di riferimento dei fedeli della parrocchia. A Monsignor Moretti mi lega un profondo rapporto filiale con Fida Donnello durante i saluti al termine della celebrazione. Con lui ho vissuto anni di esperienza intensa e anche momenti difficili. Gli sono sempre grato per le indicazioni che ha saputo darmi. Nel concludere i saluti Donnello, citando la lettera che ha voluto indirizzare alla nuova comunità, ha indicato il criterio fondamentale che secondo lui deve guidarla. Vietato vivere da soli. La comunità, il vivere insieme, il condividere hanno un ruolo fondamentale, così come ci hanno insegnato le prime comunità cristiane. Servirà l'impegno di tutti, sacerdoti, diaconi e laici. Se gli altri non ci riconoscono da come ci vogliamo bene, è tutto perso. L'unica testimonianza in questo tempo è l'amore, una vita dedicata l'uno all'altro. Solo così possiamo illuminare questo mondo così difficile e complicato.